Calabria e Puglia in stretto contatto per parlare di cultura, antropologia, tradizioni popolari attraverso il volume Transumanza, i figli del Minotauro, storia di uomini e animali di Eugenia Tanasio e Antonio Renda, edito dalla Cineteca della Calabria. L'evento, presentato presso la sede del Parco a Castrovillari, si riallaccia al progetto Cammini e incontri per una Puglia accogliente, resiliente e storicamente orientata al dialogo interculturale promosso dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari con il cofinanziamento della Regione Puglia. Una iniziativa inserita in un progetto molto più ampio che il meeting internazionale mondiale di tutte le associazioni che trattano e curano le tradizioni popolari e l'identità territoriale, quindi da questo, questa sezione dedicata proprio alla Transumanza, trattata da questo libro importantissimo, edito dalla Cineteca per la Calabria. Il volume, già presentato al Salone del Libro di Torino, è un prezioso documento su tutta l'area del Pollino interessata al fenomeno della Transumanza e quindi su un patrimonio di conoscenze pratiche, non solo zootecniche ma anche culturali, ambientali e antropologiche. Raccontiamo appunto nel libro questo grande rapporto dell'uomo con l'animale, come si è evoluto, quindi la sua domesticazione e nasce tutta una serie di situazioni che noi raccontiamo nel libro, del quale i custodi diventano poi i pastori, sono gli esponenti, appunto i figli del Minotauro, esponenti di una civiltà importante, millenaria, che ancora oggi è importante conoscere, conservare e proteggere. Tra l'altro nel libro un capitolo è dedicato alla Grotta del Romito che si trova a Papasidero, è un sito risalente al Paleolitico Superiore contenente una delle più antiche testimonianze dell'arte preistorica in Italia e una delle più importanti a livello europeo. Oggi parliamo di un accordo tra Puglia, Calabria, Parco Nazionale del Pollino, che mette in evidenza quanto di bello ci sia, quanto di tradizioni ci siano tra Puglia e Calabria, parliamo di transumanza e parliamo di cultura e di tradizioni che possono dare tanto ai nostri territori e alla Calabria in modo particolare. La Prologo che da sempre è attenta proprio per il fatto di avere all'interno della propria struttura un gruppo folclorico di rilevante importanza e quindi praticamente la Prologo è vicina a tutte queste iniziative che si svolgono per diffondere la nostra cultura, la tradizione popolare sul territorio. Un lavoro che parte dalla preistoria per compiere una riflessione sull'identità calabrese nel terzo millennio dove esiste ancora un rapporto dell'uomo con la natura e con il territorio troppo spesso altrimenti sacrificato alle esigenze di sviluppo urbano, commerciale e industriale. Transumanza è un rito che deve essere considerato marcatore identitario. In Calabria c'è un allevamento che è quello della bodolica che è un allevamento sul quale intendiamo investire molto che stiamo sostenendo in tutti i modi per far sì che questa tradizione in Calabria possa essere anche un modello di sviluppo sia nel settore zootecnico per la zootecnia da carne ma anche e soprattutto per un turismo nuovo, ambientale, sostenibile che rispetti il territorio. Alla presentazione presenti l'ente parco, le istituzioni comunali, provinciali e regionali e della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Gli interventi sono stati fidati a Franco Megna, segretario generale Fittipi, al professore Leonardo Alario, presidente IRSD di Cassano e all'assessore regionale all'agricoltura. Dopo Castrovillari ci si sposterà a Noci il 13 maggio per l'inaugurazione della mostra sulla transumanza mentre dal libro in produzione un documentario che ha seguito nelle stagioni un gruppo di allevatori di Marce d'Usa in provincia di Catanzaro che pratica l'allevamento semibrado delle podoniche, la razza tipica calabrese, impegnandosi nella ricostruzione di ipotesi di caccia primordiale e raffigurazioni parietalie.